Ciao a tutti amici di Aurora Magazine, dove avervi fatto vedere l'unboxing dell'iPhone 6s andiamo a effettuare un confronto con il precedente modello, la versione 6 come vedete alla mia destra abbiamo l'iPhone 6s e alla sinistra abbiamo un iPhone 6, tutti e due 64GB, come vedete sono praticamente quasi identici andiamo a vedere adesso anche lo spessore, l'inserimento ne approfittiamo per la nano sim è uguale e identico anche i tasti per il volume e il blocco schermo che cosa è cambiato? è cambiato soprattutto la parte del touch 3D presente nel 6s e non presente all'interno dell'iPhone 6 naturalmente questa funzionalità inficia sull'utilizzo di alcune app con delle pressioni sullo schermo e naturalmente dovrete in futuro scaricare gli sviluppatori adeguare le loro applicazioni a questa nuova tecnologia altra cosa importante, i processori naturalmente cambiano, nell'iPhone 6s abbiamo un processore A9 e un coprocessore grafico M9 che aumentano di molto le potenzialità di questo nuovo device di Apple all'interno è presente anche una RAM di 2GB rispetto al modello precedente altra funzionalità che troviamo all'interno dell'iPhone 6s è Siri che potevamo utilizzare prima con l'iPhone 6 solo connessi alla rete elettrica nell'iPhone 6s potremmo utilizzarlo anche con e senza il cavo della connessione dell'energia attaccato altra cosa importante sono le fotocamere prima era una fotocamera da 8 megapixel adesso abbiamo una camera da 13 megapixel sicuramente chi vede il video ma ha avuto la possibilità di avere un Galaxy S6 o un Edge subito obietterà per questo tipo di camera però vi assicuriamo che la definizione è davvero molto elevata altra cosa il tipo di registrazione nell'iPhone 6 era una registrazione Full HD mentre adesso abbiamo anche il 4K non stabilizzato con l'iPhone 6 e S e stabilizzato invece con l'opzione stabilizzazione nell'iPhone 6s Plus il Touch ID rimane invariato tutto il resto il fronte e il retro rimangono invariati ultima cosa importante la batteria dell'iPhone 6s è molto più piccola della precedente però a quanto dichiara Apple dovrà durare molto di più speriamo visto il crack che ha fatto la Volkswagen dichiarando dei dati non realmente effettivi speriamo che anche in questo caso non ci sia qualcosa del genere anche perché nei precedenti modelli non abbiamo mai constatato gli stessi dati effettivi di Apple effettuando più o meno le stesse misure per questa video recensione è tutto noi ci rivediamo alla prossima ciao a tutti